Cop for Ucraina è questo il nome della campagna lanciata da Cop e Unicop Firenze per sostenere le famiglie che si trovano coinvolte nella guerra. Adesso, semplicemente facendo la spesa con una donazione, si potrà dare un aiuto concreto a chi ha bisogno. Le nostre radici solidaristiche non ci hanno fatto pensare neanche un attimo ad attivarci e a dare la possibilità alle persone che frequentano i nostri supermercati di poter fare un gesto anche con poco attraverso i punti della spesa, poi anche attraverso donazioni più consistenti che possono fare alla cassa o sulle piattaforme di dare un contributo per accogliere le popolazioni. La Cop ha dato il via con un obiettivo chiaro. Abbiamo già stanziato 500 mila euro per quanto riguarda tutte le cop in Italia e rispetto a questo pensiamo che con le donazioni delle persone di poter arrivare a raddoppiare questa cifra. La Toscana si è da subito adoperata per l'accoglienza. In futuro lo farà anche per la ricostruzione delle città bombardate. Il flusso di persone per ora è ancora moderatamente contenuto ma vediamo che è in forte e costante aumento, quindi ci sarà veramente bisogno. E comunque poi ci sarà tutta una fase, speriamo sia proprio questa, di riconfigurazione, di rostruzione delle città martoriate dalle bombe e dai combattimenti. Perciò insomma confidiamo nella generosità e nel sostegno di tanti perché tanto ci sarà da fare.